ciao a tutti amici di saper fare oggi siamo qui per fare un altro video e parliamo di cavi usb mini usb o type c per gli smartphone molti di voi sanno che praticamente a volte capita che magari un cavo dura poco perché si fanno le piegature allora per evitare di fare queste piegature c'è un piccolo trucco si chiamavolo trucco si può fare in questo modo prendere della guaina termorestringente la si infila all'interno del cavo e poi basta prendere ovviamente un phone o per chi ce l'ha anche una piccola stazione aria calda in modo da fare questo tipo di lavoro facciamo stringere la guaina termorestringente fino ad arrivare ad un punto ecco qua come vedete praticamente all'inverso del cavo dove non c'è la guaina la piegatura si fa subito e quindi si spezza facilmente all'interno in questo modo non c'è più la piegatura e quindi il cavo ha una durata maggiore si può anche fare volendo prendendo una molla come in questo caso ed inserire la molla all'interno del filo stesso arrotolandola praticamente fino a quando si inserisce tutta la molla all'interno e si evita la piegatura bene se questo video vi è piaciuto condividetelo ovviamente con i vostri amici e soprattutto iscrivetevi nel nostro canale youtube saper fare che trovate anche qua nel fondo dello stile del desktop del computer e ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti amici di saper fare e buona giornata a voi